In quel tempo Gesù uscì l'uomo lungo il mare, tutta la polla veniva a lui e lei la maestrava. Nel passare vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, gli disse Seguimi, lei alzato si lo seguì, mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli. Erono infatti molti quelli che lo seguivano, allora gli iscrivi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, diceva ai suoi discepoli, come mai ei mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori. Avendo dito questo, Gesù disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. non sono i peccatori, non sono venuto perché amare i giusti, ma i peccatori. Alleluia, 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 alleluia. Per le parole del Santo Vangelo Siano cancellati i nostri peccati Fratelli e sorelle In questo momento io voglio invocare lo Spirito Santo Perché mi illumini e mi dire parole giuste Per farvi entrare nel mistero della misericordia infinita di Dio Per farvi contemplare il volto meraviglioso di Dio, nostro Padre Un Dio ricco di misericordia Per farvi incontrare, per incontrarci tutti Con il volto misericordioso del nostro sacerdote eterno Cristo Signore Col volto femminile del Padre e del Figlio Suo Gesù Per quella misericordia che è tracciata In tutti i Suoi lineamenti E che ci accoglie Abbiamo un sacerdote misericordioso Che ha preso su di sé Tutte le nostre miserie umane Tranne il peccato Come dice la prima lettura Che ci parla Con una parola tagliente Che penetra dentro di noi Lui ci taglia dal peccato Ci scaranifica E ci recupera Lui figlio del Padre misericordioso Che ci mostra le viscere di misericordia Perché Ama i Suoi figli E non vuole che nessuno Sia perduto Perché ognuno di noi È come parte di Lui Ecco il Padre che ha mandato il suo figlio E il suo figlio passa E incontra un peccatore Levi Tutta la follia torna a Lui Uomini Donne Grandi Bambini Una grande folla E il suo sguardo Si posa su un peccatore Levi Matteo Levi Matteo E gli dice Seguimi E all'istante Levi Matteo Lascia il telonio Alla cui ombra giaceva Cambiando il denaro di questo mondo Intento agli affari di questo mondo Lascia tutto E segue il Maestro Ma primo vuole dare il pranzo di addio Alla sua vita Per seguire il Signore E chiama tutti quelli della città I grandi peccatori Che si radunano alla mensa con il Signore E Gesù Che guarda tutti con amore Guarda con amore tutti Agli occhi di Dio Padre Agli occhi Di Maria sua madre E lo rimproverlo Perché mangia con i peccatori E dice Non sono venuto per i giusti Ma per i peccatori Imparate quello che è scritto Misericordia e voglio con giustizia Non sacrificio Sono venuto per la vita Non per la morte Sono venuto per la liberazione Non per la condanna Sono venuto per salvare tutti Perché tutti mi appartengono Il mondo è mio Tutti voi siete miei E non voglio perdere nessuno Di ciò che ho creato Perché il mio spirito È in ciascuno di voi Anzi è in tutte le cose Gesù passa Chiama Questa mattina Chiama anche te Uomo che si è di Artelonio Chiama te Donna Chiama te In qualunque situazione ti trovi E ti chiama Perché ti ama Non ti chiama Per interesse suo Egli è beato Ma ti chiama Perché tu sii felice Come lui Ti ha creato Per la felicità E non c'è maggiore gioia Per colui che chiama Che renderti felice Perché ti ha creato Per essere felice Tu hai scelto La tua infelicità Illudendo di cercare La felicità L'hai perduta Ti sei allontanata Dagli occhi Del padre tuo Di tua madre Credevi Di trovare E non hai trovato Ritorna al tuo Signore Ritrova il tuo Signore Perché il tuo Signore È fonte di felicità Per lui Sei stato fatto E lui Troverà compimento Tutto quello Che si agita Nel tuo cuore Fratelli e sorelle E dai giorni Che mi si agita nel cuore Una parola Cercate il suo volto Cercate il volto Di Dio E ho pregato In questi giorni Signore Io cerchi il tuo volto Mostrami il tuo volto Signore E mi si è affacciato Questo volto Che è il volto Paterno e materno Di Dio insieme Che rifugia nel volto Di Cristo Nato da donna E ho cominciato a osservare Il volto Materno di Dio Che ci invita La misericordia Il volto Materno di Dio Che viene Rivelato Nelle scritture Del Vecchio Testamento E che rifugia Nelle scritture Del Nuovo Testamento Ma rifugia Soprattutto Nel volto Di Gesù L'uomo Nato da donna Senza concorso Di uomo L'uomo Nasce Dalla donna E soltanto Dalla donna Per la potenza Dall'amore Di Dio E Gesù Porta i lineamenti Di sua madre Sono i lineamenti Di Dio Suo padre I lineamenti Paterni E materni Insieme E ho cominciato In questi giorni A leggere Le scritture Per vedere Il volto Materno Di Dio E il volto Del padre E il volto Dalla madre Dio E al di sopra Di tutte Le categorie Umane Non lo chiamiamo Padre Giustamente Perché è All'origine Della vita Ma lo chiamiamo Anche madre Perché si è Portato nel grembo Lo chiamiamo Sposo Lo chiamiamo Amico Sono tutte Le categorie Umane Per esprimere L'amore Meraviglioso Di Dio Che si articola In tante Categorie Umane Ma che Al di sopra Di ogni Categoria Umana Perché E l'amore Infinito Non Catologabile Non Esprimibile Pienamente Nelle diverse Categorie Umane E' chiaro Che lo chiamiamo Padre E nella Rivelazione Dio Si rivela Padre Perché è All'origine Della vita E' il padre Che origina La vita E Gesù Ce lo presenta Come padre Però in fondo Dio è anche Madre Perché ci ha portato In grembo Ci sostiene In grembo E questa mattina Voglio presentare I lineamenti Materni Del voto Del padre Che risplendono Nel voto Del figlio Nato da donna Non nato Da uomo Adamo Adamo Nella nuova creazione L'uomo Perfetto Cristo Gesù Viene tratto Dalla donna Per opera Dallo spirito Santo Ed è qui La superiorità Del nuovo Testamento Sul vecchio Testamento Del testamento Eterno Quando venne La pienezza Del tempo Dio venne In questo mondo Nato da donna Io nel vecchio Testamento Dio padre Mostra il cuore Dalla madre E questo cuore Già è impresso Nell'uomo stesso Perché l'uomo è stato creato da Dio Maschio e femmina Ad immagini di Dio Lo ha creato E' misterioso Questo versetto Del Genesi Dio ha creato l'uomo A sua immagine Detto Maschio e femmina L'ha creato A sua immagine Dunque Anche la femminilità E' I Dio Dobbiamo scoprire Questa paternità di Dio Questa paternità di Dio Questo volto maschile Questo volto femminile Il volto virginale di Dio Perché Uomo e donna Appunto perché Uomo e donna Sono immagini di Dio Per cui Nell'archetipo divino Dobbiamo scoprire Il lato maschile Il lato femminile Sono cioè i due lati Che dobbiamo contemplare Dell'unico Dio Che non è né maschile E femmina Però porta Tutta la carica Che si esprime Nell'uomo Tutta la carica Che si esprime Nella donna Porta cioè La tenerezza Della madre Insieme con l'autorità Del padre Tutti gli elementi paterni Tutti gli elementi materni Sono nell'unico Dio Che trascende però L'uomo Nella sua fragilità Trascende l'uomo 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 donna Perché è Dio Però Volendo visibilitarsi Volendo Creare l'uomo Sui maghi De somiglianza Lo crea uomo Lo crea donna Ma Chiamo l'uomo La donna E la donna L'uomo Perché Egli è uno Egli congiunge La forza Paterna Con la tradessa Paterna E questo Vuole dirci Nella sua rivelazione O Spirito Santo Io ti prego In questo momento Di darmi Le parole giuste Per esprimere Il mistero Della maternità divina Guardate Osservando Dall'assorviatorio Io vedo L'umanità Di oggi Che tende All'unità Al superamento Del sesso E mi sono interrogato Signore Che significa Tutto questo Perché L'uomo Tende A prendere I allenamenti Dalla donna Cominciando Cominciando dal vestito Perché La donna Cerca Di avere I vestiti Dell'uomo Perché I due sessi Si vogliono Avvicinare E osservato E' una reazione Anomala Reazione Anomala Ad un richiamo Evolutivo Dell'uomo Che tende All'unità Al superamento E' una reazione Anomala Non corretta Non è questa La mia Però E' una reazione Che denota Un richiamo Nell'evoluzione Dell'umanità Verso L'unità E osservando Così Tutti i movimenti Umani Di oggi C'è questa Sede di superamento A tutti i livelli L'uomo E' chiamata D'unità A superamento Anche del sesso Questi fenomeni Anomali Che noi troviamo Vanno letti Anche in questa Chiave Noi condanniamo Facilmente Però Dobbiamo guardare In profondità Che significa Tutto questo Sono anomalie Che si manifestano Ma anomalie Che si radicano In un movimento In un movimento Verso l'unità Verso il superamento E' un richiamo Di Dio All'unità Dell'essere Che è Il bambino E' Espresso in Cristo Uomo Nato da donna E che Paolo Esprime in quella frase In Cristo In Cristo Gesù Non c'è più Né uomo Né donna Né greco Né barbaro Ecco La differenza L'istruzione Né piccolo Né grande Ma siamo Ma siamo Ma siamo tutti Una cosa Una cosa sola In Cristo Gesù Gesù Che unisce Tutto In se stesso Ricapitono tutto Egli che è Che è l'immagine Virginale di Dio Il volto Virginale Materno Di Dio Noi che Contempliamo spesso Il volto Paterno Di Dio Non possiamo Adentrarsi Per le scritture Presente Di Dio Come padre E come madre Già L'immagine di Dio È impressa Nell'uomo Nella donna Ha immagini di Dio Egli ha creato L'uomo Come maschio E come femmina Dunque Nella Divinità In Dio C'è la radice Per l'uomo La radice Per la donna Però La divisione Tenda l'unità Perché l'uomo È perfetto Quando Raggiunge l'unità Quando l'uomo E la donna Si trovano Una cosa sola Come le persone Divine Sono Un solo Dio Dio Si chiama madre Nel Gioteronomio Usa Il Signore Termini Materni Non sono io La goccia Che mi ha Partonito Io Io che ho subito I dolori Del parto Per darmi Una luce Proprio Nel Gioteronomio Egli è la roccia eterna Che ci ha Partorito E ha avuto I dolori Del parto Per darci La vita Sono termini Squisitamente Femminili Nei profeti Le mie viscere Le mie viscere Il termine Rechem Usato Si limita L'utero Le mie viscere Si commuovono O Efraim Nei guardarti Tu sei figlio Delle mie viscere Il mio utero Si commuove Un Dio Che ha un utero Un Dio Che Patisce I dolori Del parto E un Dio Che mostra Il volto Femminile Come Una donna Che non si può Scordare Del suo bambino Nato Da riferiscere Perché è nato Da riferiscere Così neanche Io potrò Scordarmi Di te Ma se anche C'è fosse una donna Che si scordasse Del suo bambino Io Non mi posso Scordare di te Nato Delle mie viscere Efraim E' un bambino Io lo guardo Con occhio di amore Lo seguo E' come un fanciullo Che io porto Per mano E' come un bambino Che io Prendo Prendo per le braccia Io mi chino La mia guancia Perché egli sente Il calore Materno E' il linguaggio Di Dio Il linguaggio Di Dio Madre E così E così in molti e molti tratti Dei profeti Dei profeti Dio si dimostra Madre Per dirci In linguaggio umano La tenerezza La tenerezza di Dio La cura di Dio Mentre Nell'e Nell'evento del padre C'è la forza La difesa La cura Che è Dio Nella madre C'è la tenerezza C'è Quell'allevamento Che Noi Abbiamo da parte Di Dio Dio ci alleva Come una madre Alleva i suoi figli Il padre A cura del figlio Procura il cibo Difende il figlio Lo porta avanti Realizza il figlio Ma la madre Lo conduce La madre Lo accarezza La madre Fa sentire Tutto il suo amore Perché così Dio è completo Si mostra Completo Nell'amore E' chiaro Che Dio è inaccessibile Non è Nell'uomo 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 Dio è uno Abita in una luce Inaccessibile Nessuno mai l'ha visto Dice la scrittura Ma una volta Che si vuole fare vedere Alla maniera umana Mostra il volto Del padre E il volto Della madre Che rifugola Veramente In Cristo Gesù Cristo Gesù Che nasce Unicamente Da donna Per Ima dire Che il volto Di Gesù E il volto Della madre Senza concorso Di padre Uomo Il volto Di Gesù E il volto Di Maria La carne Di Gesù E la carne Di Maria Opera Dello Spirito Santo Qui la femminilità Di Dio Si vede più chiaramente Perché il nostro Signore Gesù Uomo perfetto Un uomo perfetto Nel tempo Nasce unicamente Da donna Per la potenza Del padre Per il seme del padre Portato Portato Dallo Spirito Non sacrificio Non sacrificio Non giustizia Non giustizia Il mio cuore Piene di compassione Per questa folla E Gesù Passa Mostrando il volto Di madre Per gli uomini Peccatori E grida Venite a me Il sacrificio Del parto Di una donna Il sacrificio Del figlio Di Dio Che ci Partorisce Là sotto La croce E muore Mostra il volto Materno Di Dio Che sacrifica Se stessa Per noi Che ci Dà il cibo A noi Come una madre Nutre Del suo petto Del suo latte Il figlio Così Gesù Dio Nutre Con il suo corpo Con il suo corpo Il figlio Che siamo noi Egli ci nutre Con il suo corpo Come la madre Dà il suo corpo Al figlio Dà il suo latte Al figlio Così Dio Gesù Dà il suo corpo A noi Per nutrirci Ecco Bastano questi Semplici accenni Per dirci Che il nostro Dio E madre E madre Il padre eterno Come dicono Le scritture Col volto Di madre Si presenta Gesù Con i vermenti Della madre Anche sotto Il profilo Fisico Porti I vermenti Della madre Sono i vermenti Di Dio Che vuole nascere Soltanto da donna Senza concorso Di uomo Ma il volto Ma il volto Di Gesù E il volto Della madre I sentimenti Di Gesù Sono sentimenti Materni Ereditata Da Dio Madre Ereditata Da Maria Madre Il cuore Il cuore Il cuore di Cristo È un cuore Piede di tenerezza Piede di misericordia Alla madre Non ti resiste L'uomo Non resiste Alla madre Ha più forza Di attrazione Alla madre Che il padre Ecco perché Dio Ha voluto Mostrarci Il suo volto Di madre Per avere Più presa Sul nostro cuore Perché ci vuole Per sé Sono Gli escogitamenti Di Dio Per avere Forza Di presa Sul nostro cuore Sul cuore Dell'uomo Questa mattina Vogliamo contemplare Il volto Di Dio Il volto Di Dio padre Il volto Di Dio madre Sono sempre Ripeto Quest'immagine Umane Perché Dio Al di sopra Abito Una luce Inecessibile Nessuno L'ha mai visto Nessuno Ha visto Il volto Di Dio Tranno Colui Che è sceso Dal cielo Lo dice Gesù Nessuno Ha visto Il padre Tranno Il figlio Che scende Dal cielo Se tu Vuoi vedere Il volto Del padre Deve Vederlo Del figlio E siccome Del figlio Il volto Ai trinamenti Revinili Perché Li ha presse Dalla madre Ecco che Il volto Del figlio È come L'immagine Pi' perfetta Del volto Del padre Dio Si è manifestato Nato da donna Questo è Il volto Di Dio Per dirsi Che Dio È tutto cuore È tutto amore È tutto viscere Le misericordie Per noi E dobbiamo Sentire Il richiamo Di Dio Perché Ci vuole Per sé La madre È il centro Della famiglia E Dio Ci chiama A casa La madre È al centro Della dimora Della casa Da madre Di casa E Dio Ci chiama Come madre A dimorare Nella tua casa Dalla mia casa C'è posto Per tutti Diceva Gesù Della casa Di mio padre Ci è posto Per tutti Fratelli E sorelle Queste considerazioni Al di fuori Di queste categorie Umane Che abbiamo dovuto Così Mettere Davanti Per Mostrare Quali sono I rinamenti Di Dio Qual è L'amore Di Dio Per dare Cioè Una Forma Umana All'amore Divino Di Dio Che è al di sopra Di ogni categoria Dio umana E creata Tutti Quei piacenni Servono A richiamarsi Al Signore A sentire La voce Di Dio Che ci chiama Sè Venite Venite Guardate Il mio volto Contemplate Il mio volto Pretevi E sorelle Dio Non lo può Vedere Nessuno Il suo volto Non lo vede Nessuno E il volto Di chi ama Perché non lo possiamo Vedere Per risplendere Il volto Di Cristo Creato Creato Da una donna Che porta Le namenti Dalla donna Vediamo Il volto Di Dio Nel volto Di Cristo Filippo Chi vede Il mio volto Vede Il volto Del padre Il volto Di Gesù E il volto Del padre Che porta Le namenti Dalla madre Tutto ciò Che è ricco Nell'uomo Tutto ciò Che è ricco C'è Nell'uomo Nella donna È in Dio Anzi Dio È la sorgente La fonte Della ricchezza Dell'uomo Come uomo Della ricchezza Della donna Come donna L'amore L'amore di Dio È infinito E si esprime In tutte le categorie Umane Usa il Signore Tutte le categorie Umane Per esprimere L'inefabilità Dell'amore Ma è proprio Nel volto Di Gesù Che noi vediamo Il volto Magnifico Meraviglioso Del Dio padre Di Dio madre Il volto Di Dio Andiamo Gesù Andiamo A Gesù Che ci chiama Il Dio Della misericordia Sonate Sonate La tromba In Dio Uscite tutti E venite Al Signore Questo è l'invito Che oggi Ci viene Dalla liturgia Venite Uscite Ritornate Figli Ritornate A colui Che vi ama Torniamo A Dio Fratelli E sorelle Torniamo A Dio Torniamo Tutti A casa Noi Che ci siamo Allontanati Dalla casa Paterna Torniamo Tutti A casa Dio Ci attende Con l'amore Di padre Con l'amore Di padre Vedremo Di nuovo Il suo volto E saremo Ragianti Per chi Guarda Dio Diventa Ragianti Avremo La felicità Di Dio Perché Dio Ci ha creato Per essere Felici Come Lui E' felice Fuori di Lui Non c'è Felicità Amen Amen Trateri E sorelle Torniamo Al Signore Ve lo dico Torniamo Al Signore Questa Bella Parola Dio 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 Non l'ha visto Mai Nessuno Però Il figlio Di Dio Che è nel Grembo Del padre Se lo ha Rivelato Dio Ha un Grembo Questo Grembo È occupato Dal figlio Il padre Ha un Grembo E Tastorisce Continuamente Il figlio È questo figlio Che partorisce Continuamente Che Egli ci chiama La voce Del padre Rissuona Nel figlio Continuamente Ed è Nostra madre Maria Che ha Dato nel Tempo La vita Al figlio Che Continuamente Ci chiama A penitenza Tornate Figlie Tornate Figlie Sentiamo La voce Del padre Attraverso Il figlio Sentiamo La voce Del padre Attraverso La madre Maria Il Signore Ci chiama A sé Non andiamo Errando A destra A sinistra Superiamo Tutte Le divisioni Dio Ci chiama Tutti Nella Sua Casa Nella Sua Casa A stare Insieme Si deve Tutti In casa Ricostituire L'unità Perché Dio Unità E Richiamo Al ritorno Al ritorno Nella casa Del padre Al ritorno Nella casa Della madre All'unità Fratelli E sorelle Il Signore Perdona Tutti Ha misericordia Per tutti Ma ci vuole Tutti Uniti Il Signore Vuole guarirci Questa mattina Quante guarigioni Ci sono Quante guarigioni Oggi È giornata Di misericordia Per tutti Il Signore Tocca i cuori Di diverse persone Sta toccando I cuori Di due uomini Di tre donne In maniera particolare Che sentono Il richiamo Di Dio Hanno avuto Come nel cuore Una percussione Per queste parole I loro cuori Ci sono aperti E le parole Dalla bocca Delle sacerdote Sono entrate Nei cuori Di queste cinque persone Due uomini E tre donne Il Signore guarisce Guarisce alcune ciste Guarisce il pegato Guarisce il cremo Di una donna Il Signore Tocca la nuca Di un'altra persona Il Signore Sta operando Tante e tante guarigioni Piccole guarigioni E qualche grande guarigione Di tumore Arresta Il male Che è imperversa Perché il Signore È grande È buono È ricco Di misericordia Egli si interessa Dell'anima Si interessa Del corpo Perché siamo Una cosa sola Siamo Sui figli E vorrei E vorrei rendersi felici Ed è lui Che caccia il nemico Che ci dice bensogne Il nemico Che ci insidia E ci sono liberazioni Dagli spiriti cattivi Che devono uscire fuori Che devono uscire fuori Non devono più sedurci Devono andare lontano Perché noi siamo I figli di Dio E il Signore Sta liberando Da spiriti immondi Tante persone Sta purificando Tante coscienze Sta liberando Dalla morsa Del maligno Tante persone Abbindolate E legate Il Signore scioglie Il Signore Libera i prigionieri Perché Dio È infinito Nella sua misericordia Oggi è giorno Di misericordia Lasciatevi Liberare Da Dio Lasciatevi Guarire Da Dio Lasciatevi Trarre Da Dio Perché Il nostro Dio È il nostro Padre È il nostro Madre È il tutto Per noi Queste cose Vi dice il Signore Amen E adesso Fratelli e sorelle Gridiamo al Signore Perché il suo cuore Sia allargato Per noi Gridiamo al Signore E supplichiamo Per tutti i nostri cari Per tutte quelle persone Che si raccomandano Alle preghiere Di questo sabato Preghiamo il Signore Perché Egli il Signore È ricco di misericordia E le Tue viscere Si aprono Di amore Per noi Ascolta O Padre La preghiera Dei Tuoi figli Riuniti in questo tempio Riuniti in questo tempio Di Gesù Liberatore Tu hai inviato il tuo figlio Per liberarci Per guarirci Per consolarci Per riportarci Per riportarci a te Padre Santo Ascolta la preghiera Dei Tuoi figli Riuniti in questo tempio Ed esaurisci Tutto quello Che noi Ti abbiamo chiesto Nel nome Del tuo stesso figlio Che con te Vive e regna Nei secoli Nei secoli Amo Pregate fratelli Perché Il mio e vostro sacrificio Sia gradito Dio Padre Onnipotente Signore riceve Dalle Tue mani Questo sacrificio Per l'olio E gloria Del suo nome Per il bene nostro E di tutta la sua Santa E di tutto E offriamo Questo sacrificio Per i sofferenti Presenti Ma anche L'offriamo Per i nostri Governanti E per tutto Il popolo Di Palermo Che soffra Per la città Questo è il luogo Della città Dove si prega Per la città Per il popolo Per coloro Che lo governano Per coloro Che lo affriccono Per coloro Che lo affriccono Per coloro Che Sono di peso Ai poveri Agli infelici E il luogo Della città Dove si offre Il sacrificio Perché la misericordia Di Dio Scende Sulla città intera Sui grandi Sui piccoli Sui sofferenti Sui infelici Sui malati Sui moribondi E il luogo Della preghiera Per la città Di Palermo Sofferente Oppressa Per coloro Che soffrono E per coloro Che Che obbediscono Per coloro Che comandano Perché Si faccia In tutto La volontà Di Dio E per tutti Questi Molteplici Attenzioni Così Intenzioni Che noi Offriamo Questo Sacrificio Ripeto Questo è Il luogo In cui Si prega Per la città Di Palermo E il luogo Dove si espia Il peccato Di Palermo Il peccato Che grava Sulla nostra città Qui Si cerca Di espiarlo Attraverso La preghiera Di sofferenti Unita Questa preghiera Al sacrificio Dell'unico Signore Gesù Che può Ispiare I peccati Del mondo Ci soccorro Padre L'immenso Amore Del Tuo Unico Figlio Che Nascendo Dalla Vergine Non diminuì Ma consacrò L'integrità Dalla Madre E rivelandoci D'ogni colpa Ti renda Gradito Il nostro Sacrificio Egli Vive e regna Nei secoli Dei secoli Amén Il Signore Sia con voi E con il tuo Sospirico In alto I nostri cuori Sono rivolte Al Signore Rendiamo grazie Al Signore Nostro Dio E cosa Buona e giusta E veramente Giusto Renderti grazie Padre Misericordioso Tu ci hai donato Il tuo figlio Gesù Cristo Nostro fratello Redentore In Lui Ci hai manifestato Il tuo amore Per i piccoli E i poveri Per gli ammalati E gli esclusi Mai Egli si chiuse Alle necessità E alla sofferenza Dei fratelli Con la vita E la parola Annuncio al mondo Che tu sei padre Ed hai cura Di tutti i tuoi figli In questi Per questi segni Della tua benevolenza Noi ti odiamo E ti benediciamo E unite agli angeli e ai santi Cantiamo l'inno Della tua gloria Della tua gloria Della tua gloria Della tua gloria Osana est! Osana est! Osana hai bisogno! Is ... ... Una del 10 e meditare! Is ... Grazie per la visione!